Roma ormai si tiene in piedi perché si debbono fare un paio di operazioni, di grande speculazione finanziaria. Ma il resto sta accadendo a pezzi. Roma è una città dove probabilmente neanche nel Nord Africa ci sono città così mal ridotte. Lo stato di degrado che c'è a Roma è pazzesco. Ieri abbiamo fatto una trasmissione dove purtroppo abbiamo anche un pochino censurato l'operato dei vigili urbani che un contingente di quasi 8 mila uomini con più di mille inidonei per cui che non sono più in grado di svolgere la propria attività telefonava gente e dice siamo al Colosseo e non c'è un vigile urbano. Scusami che cosa vuol dire inidoneo? Inidoneo significa che tu non sei più in grado per ragioni psicofisiche di poter svolgere quell'attività. E quindi vieni destinato agli uffici, vieni destinato ad altre incombenze. Quanto è? Mille su 8 mila? Mille? Ma no, adesso poi per tante ragioni quel contingente si diminuisce sempre di più per cui gli effettivi sono 5 mila e a questi vanno aggiunto i mille inidoneo. Esatto, 1 su 6 è inidoneo. Ma quale paese al mondo un vigile urbano su 5 sta a casa oppure fa altre cose perché è inidoneo? Allora cambiamogli termine, persone che magari per carità tutto il rispetto per malattie o altre impossibilità di svolgere il lavoro però non sono più vigili, devono fare un'altra cosa sempre pari di dignità economica e lavorativa però i vigili sono vigili, debbono vigilare. No, no, certo, certo, il vigile è proprio la presenza del municipio, la presenza fisica del municipio in ogni angolo della città, ma cosa che non esiste a Roma, non c'è un incrocio presidiato ma ieri c'era la Roma Lido, la strada che porta a Ostia dove ormai la vegetazione ha sopravvanzato la carreggiata, quindi voglio dire, se non c'è la, un tempo c'era il vigile che faceva la segnalazione all'ufficio Giardini, il ufficio Giardini faceva le determine per poter... Però scusami Enrico, ancora un minuto perché abbiamo tanti argomenti, quindi... Sì, sì, no, voglio venire al punto. Come? Voglio venire al punto. Ecco, adesso voglio arrivare al punto però mi sembra di leggere qui sui giornali, poi i grandi giornali di proprietà di questi ricconi, dicono che i vigili psioriasi, insufficienza polmonare calvizie, scusa ma se uno è calvo non può andare per la strada, abbia pazienza, adesso capisco l'insufficienza polmonare, ok, ma la psioriasi o la calvizie è qui, lo leggiamo sul giornale di Mentina che, ripeto, col quale abbiamo pure una bella controversia perché sono i, adesso questi sono i grandi padroni del mondo, no, i giudici dell'informazione, cioè l'informazione dovrebbe essere libera, però prendiamo proprio loro, scrivono su questi, sui giudici dell'informazione, scrivono sui loro giornali che deriva dalla calvizie, dalla psioriasi questo fatto, io non lo so, sarò pure scemo, non faccio il medico, ma se uno è calvo può lavorare lo stesso, scusate. Allora, ti dico un'esperienza personale, io nel 2013 vengo investito di tutte le controversie, diciamo le più rilevanti controversie che aveva l'ATAC in materia amministrativa, allora che cosa succede? Noi vediamo che ogni anno c'erano 424 o 426 inidonei, per cui gente che vinceva il concorso per fare l'autista e poi magari l'anno dopo, due anni dopo scendeva dalla vettura e gli si doveva trovare una scrivania. Che cosa succede? Dice, ma perché succede questo? Facciamo un'istruttoria e vediamo che RFI è l'organismo deputato a valutare se un soggetto è idoneo o meno. Ma RFI, voglio dire, è un organismo che ha anche altra natura, anzi soprattutto altra natura. Allora diciamo, perché non lo affidiamo a un policlinico? No, c'è una privativa, per cui voglio dire, è una legge che impone che sia. Per cui facciamo causa al TAR, ossia lo affidiamo ad un policlinico tramite gara e poi chiaramente lo contestano, andiamo al TAR e il Presidente vi dice, ma Professor Michetti, ma scusi, ma c'è una legge, mi meraviglio da lei che espone l'ente ad una sconfitta così palese. Io non mi persuado di questo, per cui perdiamo al TAR, andiamo al Consiglio di Stato. Al Consiglio di Stato riusciamo ad argomentare e vinciamo, vinciamo. Sapete quanti sono stati gli idonei rilevati da quel policlinico l'anno successivo? Quanti? Il fisiologico? Sei, sei. Cioè quelli che erano 400 prima sono diventati sei. Sì, esatto. Se la valutazione la fa un istituto atto a valutare e non un privato. Ma poi se la fai con un minimo di onestà intellettuale, no? È interessante. Con un minimo di onestà intellettuale.